Continuano ad arrivare buone notizie sui lavori di sistemazione delle post alluvione. Oltre ai due nuovi ponti di Serra Sant'Abbondio e Serra dei Conti che dai prossimi giorni consentiranno il rientro alla normalità in questi territori, da Senigallia, luogo simbolo dell'esondazione, giungono rassicurazioni importanti. Tra i ponti affidati al Consorzio di Bonifica, quale soggetto attuatore, rientra infatti anche il ripristino di una struttura strategica, il Ponte del Vallone, immediatamente a Monte di Senigallia. Qui, da quel tremendo 15 settembre 2022, la chiusura del ponte ha creato una lunga serie di disagi che finalmente stanno per diventare solo un triste ricordo. Noi ci siamo attivati dal momento in cui abbiamo ricevuto l'incarico in maniera pronta ed immediata e adesso siamo nella fase finale. Questo significa che in tempi brevi l'opera sarà completata? Sì, perché la ditta che ha collaborato con noi alla realizzazione dei lavori sta mantenendo i tempi che erano stati stimati e quindi entro il mese di luglio noi riusciremo a consegnare il ponte. Questa è una notizia clamorosamente positiva per la gente che è molto arrabbiata da tanti mesi. Sì, certamente. Noi diciamo che dalla fase di progettazione e poi quella della realizzazione abbiamo sempre rispettato quelli che erano i tempi della tabella di marcia. Sicuramente il periodo però che è passato dalla rottura del ponte oggi è lungo e quindi capiamo perfettamente che è molto sentita l'esigenza di poter riavere l'utilizzo di questo passaggio. Abbiamo avuto da tempo una lunga serie di sollecitazioni, purtroppo le cose da fare non sono semplici come sembra. Qui all'inizio, circa un anno fa, ci fu un soggetto attuatore incaricato che poi non riuscì a portare a termini l'opera. Ci fu un ragionamento sulle fare le prove di carico prima di iniziare i lavori, poi non si fecero perché si vide che il ponte bene o male strutturalmente era integro e quindi adesso le prove di carico saranno fatte alla fine dopo il consolidamento della spalla. Poi c'è stata la problematica che ha comportato un ulteriore ritardo del metanodotto ad alta pressione qui vicino che hanno detto che poteva essere messo a rischio da questi lavori, quindi si è dovuto aspettare la fine della stagione del riscaldamento. Quindi una cosa, sommata un'altra, un'altra ancora, ecco siamo qui partendo con i lavori, sono già iniziati da qualche tempo e grossomodo si concluderanno entro un mese.